buongiorno a tutti da Leonardo Ravati benvenuti sul mio canale youtube oggi andiamo avanti con la modellazione del nostro baion salvatori e dobbiamo mettere a posto una cosa perché perché se io vado nel frontale come sono andato a costruire ovviamente la mia vasca che ho costruito ovviamente su un'immagine che non era frontale ma era in prospettiva ovviamente adesso in questo momento io sono troppo lontano da quello che è la finestra quindi devo alzarmi fino al livello qui della mia vasca quindi io cosa che ho fatto ho creato ho creato un anzi dobbiamo ancora crearlo facciamo una cosa dobbiamo fare un gruppo di questi oggetti qua quindi possiamo fare una cosa di questo tipo qui allora partendo dall'esterno selezionandoli facendo gruppo ok e poi andiamo a selezionare il gruppo le tre pareti ok la vasca qui sopra andiamo nella vista frontale e l'alziamo l'alziamo fino al livello dell'altra vasca qui in questo modo qua perfetto andiamo nella vista prospettica e dovremmo essere a posto l'unica cosa che adesso questi sono un pochino altri ma non è un problema selezioniamo andiamo con lo snap solo fine attivato a fare a scala 1d ci agganciamo ci agganciamo l'ho spettato un attimo momento qua il perno perfetto ci agganciamo qua ci agganciamo sopra in alto e puff e questo opposto e facciamo dall'altra parte la stessa identica cosa selezioniamo dovrebbe essere esterno esatto ci agganciamo e lo portiamo giù perfetto e questo l'abbiamo messo a posto quindi dovrebbe essere perfetto così facciamo un salva ok andiamo nella vista frontale ok e andiamo a costruire i nostri sanitari questi qui ok quindi sono 1 2 3 4 che poi 1 2 3 sono grandi uguali questi due sono un pochino più piccoli quindi prendiamo allora un cerchio un cerchio andiamo un cerchio cliccando qui nella ricomando anche due punti va benissimo andiamo qui sul quadrante di uno e il quadrante dell'altro eccolo qua poi attiviamo il quadrante appunto andiamo a prenderci un arco inizio fine direzione iniziale ci agganciamo ci agganciamo ma di andare a vista superiore ok e nella vista superiore gli diamo una certa profondità tipo una roba così benissimo ok poi andiamo nel frontale selezioniamo anche questo e spegniamo tutto il resto così non ci disturba che spegniamo che la foto un talmente che non ci disturba nemmeno quella questo per andiamo prendiamo mettere il primo piano diamo nel nella prospettica ok vedete ok frontale selezioniamo questo facciamo control c control v teniamo shift attivo e la rotiamo aspettate rotiamo con shift attivo e poi andiamo selezionare tronca questo invio e tronchiamo questo qua poi esca poi suddividi questo invio e lama di taglio invio e abbia suddiviso in due ok questo perché perché andiamo adesso costruire una superficie con superficie rete curve selezioniamo una due tre quattro invio facciamo un'anteprima eccola qua e diamo ok perfetto benissimo poi con attiva la curva facciamo un'estrusione estrui estrui curva invio e gli diamo un'estrusione solida va benissimo anzi no facciamo facciamo no facciamo solido no andiamo verso l'esterno in questo modo qua perfetto e poi lo chiudiamo qui con una superficie planare superficie planare invio perfetto e a questo punto invece facciamo un mischi delle superfici una due e una tre perfetto e abbiamo un solido ok che possiamo andare fare una cosa facciamo solido contro il c ok lo sappiamo poi riattiviamo col destro mouse il tutto ok e poi facciamo un'altra cosa facciamo che questo solido lo portiamo leggermente all'interno così benissimo andiamo nella vista frontale con attiva la fotografia e poi facciamo un bel duplica duplica che lo troviamo qua ecco il quad copia coppia va bene shift e facciamo una e una due copie perfetto ok e poi facciamo una differenza boleana quindi differenza boleana tra questa 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 parete invio e mi togli questi tre invio perfetto e abbiamo creato il nostro la nostra diciamo nicchia chiamiamola così ok idem facciamo con questo qua l'unica cosa che dovremmo curva 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 e curva perfetto frontale la spostiamo laterale qui anzi questo dovrebbe essere dovrebbe essere qua più o meno ok e poi facciamo uno scala 2d scala 2d ci agganciamo qua e scaliamo un pochino ecco così ok e poi prima di andare avanti prima di andare avanti facciamo un contro di ciò andiamo a rincollare quello che era il nostro nostro chiamiamolo cilindro quello che lo selezioniamo lo esplodiamo lo esplodiamo questo lo eliminiamo e questo eliminiamo teniamo solamente questa come superficie perché questa qui è quella che diciamo ci darà e poi il sede mona frontale devo vedere deve darci siamo il deve essere la manopola quella che gira no poi andiamo a costruire un solido con manopole eccetera quindi mentre qui dobbiamo andare a ricostruire di nuovo una superficie per c'è un due cilindretti come ha fatto qualsiasi cosa no quindi andiamo qui selezioniamo questo facciamo un estrudi quindi estrudi curva anzi per farlo strudi facciamo una cosa selezioniamo la parete la nascondiamo montanamente così non ci disturba la foto la spegniamo montanamente e crea un prima la superficie come abbiamo fatto prima con le t curve quindi una due tre quattro invio e invio ok e poi selezioniamo curva estrudi curva invio misturiamo perfetto e andiamo a chiudere nuovo con la planare qua invio aspetta allora planare qua invio benissimo unisci quindi unisci 1 2 e 1 3 perfetto andiamo nel frontale attiviamo la foto facciamo un control c ricordiamoci control c e dobbiamo andare a duplicare con control c control v anche va benissimo e spostiamo laterale qua eccolo qua poi una e una due poi superficie andiamo a destra noi dentro abbastanza dentro abbastanza quindi basta che riattiviamo destro il mouse la nostra parete quindi differenza booleana tra la parete invio e 12 invio eccolo qua perfetto ok qui ovviamente abbiamo questa che non ci interessa ok e abbiamo la nostra parete poi facciamo control v eccolo qui esplodiamo benissimo ed eliminiamo quello che non ci serve eccolo qua ok mentre questa qua come abbiamo detto e facciamo una estrusione non estrusione aspettate destra facciamo un offset superficie vediamo offset offset superficie srf dall'altra parte quindi inverti tutto però fa così vediamo fare un'estrusione invece superficie quindi strumenti superficie direzione facciamo da qua verso di qua no non va bene no niente off superficie offset superficie senza la curva aspettate offset superficie selezioniamo la superficie che questa invio dall'altra parte e come distanza 0 3 non so se va bene diamogli ok facciamo vediamo una cosa si teniamolo che va bene 0 3 può andare bene ok quindi possiamo farlo per tutti quindi facciamo di nuovo offset superficie senza la superficie una due no qui non l'ho messo quindi questo allora offset superficie questa invio questa invio invio d'altra parte invio ok e adesso andiamo a duplicare duplicare le superfici cioè le mettiamo all'interno qua quindi facciamo contro il c contro il v ok eccola qua contro il c contro il v ecco perfetto perfetto e poi anche questa è un po di superficie contro il c contro il v e la duplichiamo da quest'altra parte perfetto anzi che poi queste qui che stupido queste qui prima di duplicarla è meglio che andiamo a finire quest'altra allora per finire quest'altra semplicemente come queste qui saranno le manopole per l'acqua calda e fredda andiamo a prenderci un parel'epipedo partendo dal centro ci agganciamo il centro togliamo gli snap e andiamo a creare la nostra manopola in questo modo qua andiamo nella vista di destra così la prendiamo e la portiamo verso l'esterno anzi dovrà essere più o meno allineata in questo modo qua perfetto ok benissimo aspettate metto qua il perno quindi dovrà essere questa ecco in questo modo qua però non va bene perché deve andare allora deve andare di là quindi può entrare dentro un pochino e facciamo uno scala 1d scala 1d partendo dal centro partendo dal centro e andando verso l'esterno sì vediamo se va bene perfetto ok quindi selezioniamo 1 2 spegniamo tutto il resto spegniamo tutto il resto un po troppo qua però ma riposo eliminarla dopo esatto allora e qui possiamo fare possiamo fare una cosa di questo tipo qui una suddivisione boleana suddivisione boleana tra questo questo invio vediamo se me la fa 1 2 invio ok vedete tac eliminiamo questa eliminiamo questa eliminiamo questa e poi c'è anche questa terminata sì qui dovevo stare all'interno di più così non avevo tutti questi problemi però va bene va bene così avviciniamoci qua non avevo voglia di rifarlo ok questo vediamo da eliminare e dovremmo esserci ok e adesso potremmo fare invece una unione boleana tra questo e questo invio eccolo qua eccolo qua ok perfetto riaccendiamo il tutto frontale e qui andiamo a fare una copia copia benissimo togliamo qua e andiamo qua facciamo una copia e due copie voilà poi a